Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Sono ripartite nelle Marche tutte le marinerie, da Pesaro a Civitanova Marche, mentre a San Benedetto del Tronto la pesca ripartirà la settimana successiva. Un avvio che prevede uscite per tre giorni alla settimana, ma lascia il mondo del mare in una situazione particolarmente complicata. Dopo sei settimane di fermo biologico iniziamo la nostra attività di pesca da Civitanova Marche fino a Trieste. C'è tanta preoccupazione in giro nella marineria perché il prezzo del gasolio è rimasto ai stessi livelli di luglio, è molto alto. I pescherecci lasciano il porto per tornare in mare ma con l'umore a terra. Oltre al prezzo del gasolio, che resta elevato, si è aggiunto il timore per le bollette che spinge la gente ad avere paura di spendere e che rischia di provocare la chiusura di molti ristoranti e il conseguente crollo della domanda di pescato e dei prezzi. Si è messo anche sopra il caro bollette, quindi la gente è molto impaurita, la gente difficilmente spende soldi inutili, la gente sta molto attenta, i ristoranti stanno minacciando la maggior parte di chiudere perché non riescono a pagare le bollette. La preoccupazione è tanta, noi proviamo ad andare a lavorare, proviamo a fare le paghe marinai e andare avanti per la nostra strada, comunque sarà molto difficile. Con l'avvio di questa settimana sono ripartite pure le imbarcazioni più in difficoltà alle quali la cooperativa sta direzionando i pagamenti, ma c'è bisogno di ben altre soluzioni il più presto.